Esame del bilancio e della finanziaria Riunione della Commissione Cultura Sette giorni in consiglio Nella settimana si sono svolte le riunioni della prima commissione sull'esame del bilancio e della legge finanziaria. La Commissione Cultura si è occupata dell'offerta formativa delle autonomie scolastiche piemontesi. In primo piano A maggioranza la Commissione Bilancio ha approvato il testo della proposta di legge finanziaria e ha nominato Franco Maria Botta e Leonora Artesio e Vilma Ronzani, relatori in aula. Il testo è limitato alle disposizioni che appaiono indifferibili e urgenti. Nei prossimi giorni proseguono i lavori della Commissione per completare l'esame dei provvedimenti legati al bilancio. Il liceo scientifico e indirizzo sportivo è la novità prevista dal piano dell'offerta formativa delle scuole secondarie di secondo grado per l'anno scolastico 2014-2015. A maggioranza, assenuti Partito Democratico e Federazione della Sinistra, la Commissione Cultura ha espresso parere favorevole alla delibera della Giunta che ora, dopo l'approvazione definitiva dell'esecutivo, verrà trasmessa all'ufficio scolastico regionale. La trattazione dell'argomento è stata ritenuta urgente in quanto sono imminenti le iscrizioni ai vari istituti scolastici.